Il programma di quest'anno. Quest'anno io ho lavorato, come sempre, mi piace lavorare sul linguaggio perché dare un nome alle cose è un'arte importante. Attraverso l'uso delle parole tu puoi trasformare una banalità in qualcosa di stimolante e in qualcosa che stimola anche lo staff, stimola gli utenti, stimola a concepire insieme creatività e pensiero laterale. Allora il titolo di quest'anno della piazza è consta di tre consonanti, cioè è mo'. In attesa di Giorgia Meloni che anche quest'anno dovrebbe trascorrere le vacanze estive nel Buon Retiro di Masseria Beneficio, al comune di Celia Messapica sono stati svelati gli ospiti della settima edizione della piazza alla carmessa ideata dal direttore di affariitaliani.it, Angelo Maria Perrino. I nomi sono Salvini, Tajani, Fitto, Urso, Musumeci, l'invitica che ha fatto la Raggi, la Boschi, il presidente di Confindustria ovviamente, Rossini, il presidente dei magistrati italiani, Santa Lucia. E mo'. Dal 29 al 31 agosto sono attesi sul palco di piazza Premiscito i due vicepremier, Salvini e Tajani, ma anche tante personalità provenienti dal mondo della politica, della magistratura, del giornalismo e dell'economia. Bignami, Crippa, Fidan, Samarattini, Misiani, Patuanelli. Prevista anche la presenza del presidente ANM, Giuseppe Santa Lucia, con la riforma della giustizia che, prevedibilmente, sarà uno dei temi centrali della edizione 2024.